In occasione della Pasqua Ortodossa, il presidente Volodymyr Zelensky si è rivolto alla nazione lanciando un appello per la vittoria del bene e della giustizia, per la vittoria della vita sulla morte, ha dichiarato. Molti soldati ucraini cristiano-ortodossi celebrano la Pasqua in prima linea. Si tratta di un periodo dell'anno particolarmente impegnativo per i rappresentanti della Chiesa, compresi i sacerdoti al fronte. Il capo di Stato di Kiev ha reso omaggio a coloro che hanno perso la vita durante il conflitto. Ivan Cappellano, della 72esima brigata meccanizzata dell'esercito ucraino, dopo aver raggiunto una postazione nel cuore della notte, ha tenuto una breve funzione con i soldati e ha benedetto i dolci pasquali che sarebbero poi andati alle truppe in prima linea e nei dintorni. Durante la funzione si sono udite delle esplosioni, ma il sacerdote Ivan non ha interrotto la preghiera.